Quello di domani è un appuntamento storico per il Parco della Costa Tiatina proprio perché dopo 15 anni ci troviamo alla conclusione di un ITER che può essere bloccato solo da una manifestazione politica avversa. Certo è che il Parco Nazionale della Costa Tiatina per la sua dimensione economico, sociale, ambientale e culturale è l'unico strumento valido e l'unica realtà vera contro la petrolizzazione in Abruzzo. Secondo noi è un incontro fondamentale ma che non deve riservare nessuna sorpresa perché il commissario ha concluso la sua attività e quindi il Parco domani deve essere licenziato positivamente per andare finalmente alla conferenza Stato-Regioni da qui a qualche giorno, speriamo pochi giorni, per poi passare finalmente alla firma del Presidente della Repubblica. Anche se secondo noi non è un parco ideale, è un parco sicuramente possibile, ben fatto, siamo convinti che crescerà nel tempo perché i territori, siccome il parco rappresenterà un volano per lo sviluppo anche economico del territorio, altri territori vorranno entrarci e diventerà una corsa all'ampiamento. Il vostro giudizio sull'operato del commissario De Dominicis che ha terminato il suo operato poche settimane fa, qual è? Avrebbe potuto fare meglio perché ha ceduto alle pressioni dei sindaci e ha fatto un parco al ribasso riducendo gli spazi protetti, però tutte le zone di maggior pregio naturalistico le ha mantenute e ha mantenuto l'area costiera. Ha fatto un lavoro positivo, sicuramente migliore di quello che ha fatto la politica abruzzese in 15 anni di attesa inutile. Manca l'ultimo passo, l'ultimo tassello importante che è quello proprio dell'espressione della politica abruzzese. Domani si capirà se in Abruzzo governa il centro-sinistra o il centro-destra che è stato sempre avverso al parco.